Esatto, Presidente, grazie per questa posizione. In realtà è stato un mio errore, me ne scuso, pensavo fossimo alla mozione successiva, la 236, vedendo parlare del Consigliere Zanola l'ho collegata a quella successiva a sua prima firma. Su questa della Roma Giardinetti, confermo quello che avevo detto, il voto sarà di astensione perché abbiamo già votato una mozione uguale, questa in realtà apporta anche delle richieste per quanto riguarda il servizio di superficie che chiaramente meritano un ragionamento un pochino più ampio che però siamo ampiamente disponibili a riprendere in commissione subito dopo la pausa.